Grazie Presidente. Abbiamo iniziato a fare ostruzionismo, quindi a contestare comma su comma di un articolato che è fatto di 11 articoli, quindi è una cosa molto semplice. In ogni caso sono ben felice che sia arrivato a questo punto perché fondamentalmente andiamo a tutelare il consumatore, quindi il consumatore finalmente non solo per decreto ministeriale che definisce che cos'è il pane fresco, cos'è il pane decongelato, cotto nell'esercizio, ma potremmo mettere un contrassegno che definisce e chiarisce in modo inequivocabile che tipologia di pane il consumatore sta acquistando. Allo stesso tempo andiamo a difendere una categoria che è tradizione del nostro territorio e che fa parte di quell'artigianato e della piccola impresa che in teoria questo consiglio dovrebbe difendere. Dico in teoria perché poi sappiamo che dove dobbiamo andare a difendere il piccolo commercio e la piccola media impresa a livello un po' più elevato, quindi parlo della questione relativa al commercio in genere e ai centri commerciali, si cerca di terrare lunghi tempi così scadrà una moratoria e si continuerà a costruire grandi strutture di vendita a scapito poi dei centri urbani, della piccola impresa che ci riempiamo la bocca tutti i giorni e vogliamo difendere. Quindi questa è un po' la realtà dei fatti, c'è stato istruzionismo, in ogni caso andiamo a tutelare il consumatore, dicevo, andiamo a tutelare l'impresa e abbiamo anche scelto e il Movimento 5 Stelle ha chiesto di inserire la tipologia di pane, quindi il contrassegno sul pane lombardo, non solo perché il pane lombardo ha delle sue peculiarità ma per agevolare quella che è la filiera corta. A noi stava a cuore la filiera corta perché va a riduzione dell'impatto ambientale, perché valorizza anche l'agricoltura del territorio, quindi il grano, il frumento e perché ancora una volta abbiamo notato nell'incontro con le associazioni che l'associazione, a differenza di quello che diceva il collega Barboni che ne segue un progetto di filiera corta, hanno anticipato addirittura a tre anni fa un progetto di filiera corta. Quindi abbiamo un progetto proposto dall'ASPAN che sta portando avanti, che ha permesso già la crescita di posti di lavoro nel settore agricoltura, una tutela del piccolo agricoltore che spesso si trova con la grande distribuzione a fare da banca alla grande distribuzione, quindi alle grandi aziende, quindi viene tutelato l'agricoltore da una parte, viene garantita la territorialità del prodotto e viene ridotto l'impatto del trasporto, quindi secondo noi è un'ottica eccezionale, nel senso che si tutela davvero il territorio, si va a creare valore aggiunto, si vanno a creare posti di lavoro. Come al solito dico, l'impresa, i cittadini e i privati arrivano sempre prima delle istituzioni, perché questo è un progetto che è partito tre anni fa, che ormai si sta diffondendo su tutto il territorio lombardo e noi ci siamo trovati a normare, non senza qualche malumore, una cosa che già esiste. Quindi c'è stato diverso malumore, perché sembrava una cosa della Lega mettere lombardo, vorrei ribadire in questo consiglio che la parola lombardo non è di proprietà né della Lega Nord, né del Movimento 5 Stelle né del PD, ma ha un suo valore aggiunto spesso per l'eccellenza che questo territorio è in grado di esprimere. Quindi la terza parte di questo progetto di legge, quella legata alla filiera corta, per noi è la parte centrale per la valorizzazione del territorio, per la riduzione dell'impatto ambientale e per la creazione di posti di lavoro. Quindi anticipo anche il voto del Movimento 5 Stelle, la dichiarazione di voto, noi voteremo chiaramente favorevoli e siamo favorevoli a questo progetto di legge e speriamo che davvero si possa continuare a sostenere la piccola impresa lombarda, anche se sinceramente sono molto perplesso su quello che è il livello superiore. Quindi su questa piccola nicchia di mercato siamo riusciti ad intervenire, sul resto mi pare che ormai ci sia un lassismo e un'attesa che scada una moratoria per poi continuare a garantire quella che ha la grande distribuzione e quei lobbismi che da sempre fanno pressione e che stanno rovinando i nostri centri urbani e il tessuto economico che da sempre caratterizza il nostro territorio. Grazie. Grazie. Come già anticipato in discussione generale, il Movimento 5 Stelle potrà favorevolmente a questo provvedimento. Mi duole dover prendere atto che su un provvedimento così importante, come sottolineava anche il collega Romeo, che per la prima volta o quantomeno per la prima volta in questa legislatura cerca di impegnarsi per la piccola impresa e per il piccolo commercio, la Giunta praticamente non sia presente. Ringrazio chiaramente chi è presente, ma c'è un deserto tra i banchi della Giunta che per me è abbastanza significativo. Visto anche che poi chi o parte di chi ha fatto polemica sulla michetta lombarda e anche chi generalmente difende la grande distribuzione e le grandi lobby a scapito di chi stiamo difendendo e tutelando oggi è sicuramente significativo. L'ho detto prima in discussione generale che ci sono stati problemi in Commissione, c'è stato ostruzionismo da parte di due gruppi che hanno cercato di tirare lungo un provvedimento che sembrava così semplice a tutela di chi chiaramente vive una difficoltà di una concorrenza sleale e a tutela dell'agricoltura locale, della panificazione e dell'artigianato locale, delle capacità e professionalità che in Regione Lombardia è anni che si tramandano di famiglia in famiglia. Quindi sicuramente noi voteremo in modo favorevole, ribadisco, mi spiace davvero vedere che la Giunta non sia presente solo se non in un paio di componenti per un provvedimento a nostro modo di vedere così importante e mi spiace anche che la Lega abbia fatto un piccolo passo indietro su una questione veramente importante che noi sostenevamo come quella relativa al pane senza glutine, spostando da impegno in vita un ordine del giorno che già ha una forza sicuramente non pari a quella di un emendamento. Fare un piccolo passo indietro quando invece si chiedeva di tutelare dei cittadini che sono in forte difficoltà e che vivono delle problematiche reali legate ad aspetti di salute, ecco, io non me lo sarei aspettato. Avevamo fatto un provvedimento che con questo ordine del giorno che noi sostenevamo in pieno hanno deciso di fare un mezzo passo indietro, invece avrei chiesto un forte impegno da parte della Giunta per i cittadini che oggi vivono maggiori difficoltà rispetto ad altri che sono comunque in difficoltà. Quindi io dichiaro voto favorevole per questo provvedimento. Grazie consigliere Dioli, ha chiesto di intervenire per la dichiarazione di voto del gruppo Maroni Presidente e il consigliere Presidente del gruppo Stefano Bruno Galli ne ha facoltà.